Ciao, sono Alessandro Vallanna, ho vinto il campionato del mondo a Varese nel 2008 e ho la fortuna di essere qui con Banca Mediolanum dove svolge molte attività durante il Giro d'Italia. Io accompagno i clienti Mediolanum a pedalare, poi rimaniamo con loro in Hospitality, ma oltre a questo c'è anche l'opportunità di fare il Giro e quindi è una finale di tappa su biciclette elettriche, è qualcosa che è nato solamente tre anni fa ma sta veramente prendendo piene e è una bellissima esperienza per percorrere le strade del Giro. Grazie a tutti!